bene ragazzi ci troviamo qui benvenuto al mio garage ho ripreso la moto perché domani domenica primo settembre si terrà la motobirra a monte san vito alla fiera della birra ecco che inizio con questo video così e ci vediamo domani buongiorno ragazzi oggi è il primo settembre e questa giornata come vi ho detto è dedicata al motobirra è un raduno che è effettuato in concomitanza con la fiera della birra che si tiene qui a monte san vito così venite e seguitemi in questo nuovo giro e in questo nuovo video spero che vi piaccia perché è una cosa semplice che sto facendo fino all'arrivo della mia partenza al mio nuovo viaggio a presto no 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 Ci sono moto di tutti i tipi, Tenerea un sacco, poi le Alphi modificate, poi c'è una bellissima Guzzi, è lavorata tutta a mano. Onorio che dice le sue cavolate. Comunque, bell'arrivo di tante moto, anche le Chopper. Avrebbe panoramica delle moto, come vedete, BMW, Ducati, Ducati, Suzuki, 1000, Honda, una Husqvarna, Transalve nuova a Moto Morini, Africa Twin, una bella Cavallero, e queste belle customizzate. Eccole, Ducati, tanti Ducati ancora, Gustrom, ci sono anche Moto d'Epoca, delle belle Vespette. KTM, Harley Davidson, ecco. E continuano ad arrivare al motobirra, con questo caldo a 33 gradi ancora. Adesso abbiamo la benedizione del nostro parroco. E facciamo una preghiera proprio di benedizione, perché sia, cioè andate piano, divertitevi con la testa, perché andate piano mi sembra un po' esagerato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, via verità e vita, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Vi affido al Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Onipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto. Fa che i conducenti di questi mezzi, di queste moto, di questi scooter, nei vari percorsi di lavoro di svago, operino sempre con perizia e prudenza, per la sicurezza e l'incolumità di tutti. E avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amén. Vengo anche giù un attimino alle moto. Perfetto, grazie. Beh ragazzi, siamo in partenza al Giro Stradale. Abbiamo avuto già la benedizione del parro del Monte San Vito. Ecco come potete vedere tutte le moto che parteciperanno al Giro. Ecco come potete vedere tutte le moto che parteciperanno al Giro. Ecco come potete vedere tutte le moto. Ecco come potete vedere tutte le moto che parteciperanno al Giro. Ecco come potete vedere tutte le moto che parteciperanno al Giro. Ecco come potete vedere tutte le moto che parteciperanno al Giro. Ecco che passiamo all'interno di una stravina di Monte Carotto. marchio on the road il giro procede molto bene molto bello, tranquillo va bene, sono le solite strade che avrò fatto in passato ma comunque fa sempre piacere percorrerle con il motoclet per Montsambitese uno dei migliori motoclub della zona non solo perché ci vivo a Montesambito ma per il modo di organizzare i suoi eventi ha portato sempre tanta gente ai suoi giri anche oggi che è tanto caldo qua in questa zona si pianta molto il verdicchio ottimo vino molto pregiato in tutta Italia molto bevuto in tutta Italia ragazzi guardate le nostre colline anche in questa zona in Italia è sempre bello girare ecco una metreglia bellissima guardate questo paisaggio che bello è sempre bello è sempre bello è sempre bello Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.